Luci sulla città è offerto da Spada Immobiliare, Compravendite, Affitti e Permute. Sita a Palermo in via Sant'Oliva 16, telefono 091 612 72 22. Impresa edile Geometra Arnaldo Giambertone, dal 1984. Qualità e cortesia al vostro servizio. Costruzioni e ristrutturazioni edili, manutenzione stabili condominali, rifacimento prospetti, bagni e cucine. L'impresa Giambertone vanta una notevole esperienza nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni edili, avvalendosi di personale altamente specializzato. Prezzi competitivi con preventivi e consulenze gratuite per l'ottenimento del super bonus 110%. Impresa edile Geometra Arnaldo Giambertone, ci trovi a Palermo in via Saline 5, telefono 091 50 75 369. Impresa Giambertone, la scelta giusta per ristrutturare casa. Buonasera e bentrovati con un nuovo appuntamento con Luci sulla città. Oggi tratteremo di un argomento attualissimo. Si parla di lavoro, si parla dell'avvertenza Almaviva-Covisian e del futuro lavorativo di ben 543 addetti al call center ITA. Oggi con nessuna certezza. Abbiamo ospite in studio, Nadia Cortegiani, una rappresentante della CGL, un'RSA, ma soprattutto una lavoratrice, Deborah Lacara, entrambe addette al call center Covisian da qualche mese, ma in Almaviva da oltre 20 anni. Esatto. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, partiamo subito con la rappresentante sindacale. Almaviva nel tempo ha avuto tante difficoltà nel corso degli anni. Difficoltà risolte, alla fine si è arrivati sempre a una soluzione. Dopo scioperi, dopo proteste, dopo l'intervento di rappresentanti politici, più volte il sindaco di Palermo insieme all'assessore Marano si è battuto per far sì che questa realtà lavorativa davvero importante per una città come Palermo, dove il lavoro è quasi sotto zero, venisse mantenuta e venisse mantenuta qua a Palermo, nonostante poi ci sia stata una piccola aliquota di lavoratori spostata in Calabria su Rende. Oggi si arriva al punto che, gli addette alla commessa all'Italia, una volta che all'Italia non c'è stata più, sono passati con Ita, Ita che ha preso come call center di riferimento Covisian, che è stato l'unico call center che ha aderito a questa proposta di massimo ribasso, a quanto mi risulta. Insomma non ha funzionato esattamente così, diciamo che ci sono state due situazioni, innanzitutto Ita non voleva chiaramente all'inizio Alma Viva per proseguire il suo servizio, dunque ha cercato di fare un bando, ha fatto un bando che prevedesse come location definitiva per il call center Roma, poi appunto attraverso show per i manifestazioni e quant'altro siamo arrivati ad estendere il bando ad altre aziende di outsourcing, tra cui appunto Alma Viva, c'era anche Comdata e Covisian, ma di fatto Covisian ha trovato un accordo con Ita facendo un'offerta al di sotto delle tabelle ministeriali, dunque qua c'è la prima cosa già che va un po'… Ecco io ho cercato ovviamente di sintetizzare per arrivare subito al nodo della questione. Dunque sono andati loro al di sotto, hanno preso l'appalto andando al di sotto delle tabelle ministeriali e all'inizio appunto rifiutando noi come operatori che potevano proseguire il lavoro. Io vorrei che fosse fatta chiarezza che sì noi siamo addetti call center, ma in realtà il nostro essere addetti call center è un po' sopra le righe, perché noi ci occupiamo di fatto di servizi di biglietteria, per cui noi non siamo chi vende qualcosa, la macchinetta del caffè piuttosto che la televisione, piuttosto che l'offerta telefonica, noi siamo operatori specializzati, la maggior parte di noi sono laureati, la maggior parte di noi parla almeno due lingue e siamo gente che fa questo mestiere da 20 anni. Ecco a proposito di questo, di questa specializzazione, sono 20 anni che voi vi occupate o circa della commessa all'Italia, ciò significa che siete gli interlocutori, i primi, il front office di chi ha bisogno di partire, quindi ovviamente nel corso degli anni avete avuto modo di specializzarvi sempre più per dare una risposta, siete voi prima l'Italia, oggi ITA a rappresentare quello che è la compagnia e quelle che sono le esigenze dei clienti alla compagnia e della compagnia ai clienti, ma di fatto sembra che questo poco importi a tutto ciò che vi circonda, l'economia vi sta schiacciando. Assolutamente sì, noi in questi 20 anni siamo cresciuti professionalmente, ricordo che ai tempi non ne mettevamo neanche il biglietto, ma si inviava in una coda dove poi l'ufficio di Roma provvedeva all'emissione e noi ci siamo specializzati, accompagniamo il passeggero sin dalle fasi di prenotazioni, su eventuali richieste di servizi speciali, il poter trasportare il cane in cabina o in stiva, persone che necessitano di assistenza medica, quindi persone barellate, persone con ossigeno, che necessitano di ossigeno, accompagniamo anche i musicisti, squadre sportive di basket o persone che fanno parte di una squadra sportiva, di persone abili diversamente, quindi con sedie a rotelle e li accompagniamo durante il viaggio, sin dalla prenotazione fino all'ora arrivo, gestiamo anche quelle che sono i reclami, gestiamo anche quello che è il cambio della prenotazione, il cambio itinerario, il cambio data, noi ci occupiamo a 360 gradi del passeggero, senza di noi il passeggero non farebbe nulla, perché per quanto il sito possa permettere la prenotazione, ma ci sono dei servizi che vengono erogati solo attraverso di noi, quindi noi siamo fondamentali, si tratta di personale che nel corso di 20 anni ha avuto modo di essere sempre più specializzato, dal mio punto di vista per una compagnia, non si parla più di compagnia di bandiera, ma di una compagnia partecipata dallo Stato, sicuramente utile a rappresentare al meglio quello che sono le professionalità e le esigenze di una compagnia che si vuole proporre sicuramente a livello mondiale come leader. Assolutamente sì. Di fatto però raccontiamo come siamo arrivati a quello che sta succedendo, cioè al licenziamento di 543 addetti al call center divisi tra oggi, tra Alma Viva e Covisian. Sì, infatti perché dobbiamo ricordare che innanzitutto siamo stati spaccati già in fase di accordo, perché quando IT e Covisian appunto hanno fatto questo accordo a ribasso, inizialmente Covisian si è detta disposta a prendere all'incirca 100 FTE, significa quasi 200 persone, ma tutti gli altri restavano fuori. E allora con il pressing del sindaco Orlando, dell'assessore Marano che erano presenti al tavolo, dei sindacati che hanno fatto un gran lavoro, si è arrivati con un sacrificio da parte di tutti ad averne dentro 543, perché noi ricordiamolo, per poter passare tutti e 543 abbiamo rinunciato al 30% del nostro stipendio fino a gennaio 2024. Abbiamo rinunciato sia al profilo orario sia all'anzianità. Questo per stare tutti dentro, passare tutti. Ecco, quindi diciamo avete creduto in questo progetto. In questo progetto, assolutamente sì. E avete offerto solidarietà l'un con l'altro ai colleghi di lavoro. Assolutamente sì. È chiaro che Covisian ha chiesto nell'accordo che il passaggio avvenisse nell'arco di 14 mesi, dunque a partire da ottobre 2021 fino a dicembre 2022. La cosa strana, e qua sorrido ma in realtà ci sarebbe proprio da strapparsi i capelli e piangere, è che loro fanno con noi un accordo di assunzione in 14 mesi, ma senza che noi lo sapessimo, firmano un accordo di 6 mesi più 6 con ITA, un accordo commerciale. Se noi avessimo saputo che c'era questo accordo che partiva con 6 mesi più 6, chiaramente non avremmo mai e poi mai firmato un accordo che prevedeva i passaggi in 14 mesi. Ecco, allo scadere dei primi 6 mesi cosa succede? Ma allo scadere dei primi 6 mesi, senza che ci fosse alcuna avvisaia prima, riceviamo in data, la sera del 31 marzo, dunque a cavallo tra il 31 marzo e il primo aprile, una comunicazione da parte di Covician che ci informa che è stato sciolto l'accordo commerciale con ITA. Potete ben capire che a quel punto noi restiamo basiti, perché non capivamo cosa volessero dirci, anche se alla fine di questo comunicato fatto dall'azienda veniva detto che a quel punto davano presciolto conseguentemente anche l'accordo fatto al Ministero del lavoro con gli operatori di Almaviva e dunque con Almaviva, Covician e i sindacati. Quindi paradossalmente i lavoratori passati con Covician, che teoricamente in quel secondo venivano reputati più fortunati, si ritrovano di fatto quasi a casa. Eh no, diciamo che sette giorni dopo, dunque il 7 aprile, riceviamo la bella notizia che sono state aperte le procedure di licenziamento per i 221 che sono al momento su Covician. Mentre subito dopo il tavolo, che è stato il primo e unico tavolo tecnico del 20 di aprile, il giorno dopo anche Almaviva apre le procedure di licenziamento per i restanti 300. Ecco, grande assente di questo tavolo tecnico. Il grande assente è Ita in questo tavolo tecnico, che si tira fuori senza dare alcun preavviso, perché io ci tengo a sottolineare che noi avevamo avuto attraverso i politici locali un'interlocuzione con il Ministro Orlando che ci aveva garantito la presenza di Ita al tavolo per il 20. e invece appena iniziato il tavolo tecnico il segretario del Ministro Orlando ci comunica che Ita aveva dato comunicazione 15 minuti prima che non si sarebbe presentata e che pertanto il tavolo non aveva motivo di esistere. Per fortuna, lo ribadisco, grazie al sindaco Orlando che ha scatenato il putiferio e ai sindacati nazionali, è stato detto, signori ricordiamoci che comunque questo accordo non era stato firmato da Ita. Ita si faceva garante del lavoro, ma l'accordo non è firmato da Ita. L'accordo è stato firmato da Covician, da Almaviva e dai sindacati. Pertanto siamo riusciti a tenere il tavolo aperto chiedendo che Ita però intervenisse perché comunque anche loro si erano tirati indietro. Ancora non abbiamo una data di fatto per un nuovo incontro. No, ecco, questa è la cosa più brutta perché nonostante le diverse interlocuzioni a livello nazionale, io non so, anche ieri durante il primo maggio, l'altro ieri, i sindacati nazionali hanno detto che loro lotteranno insieme a noi perché questo tavolo si faccia, abbiamo avuto rassicurazioni da parte dell'onorevole Letta che abbiamo incontrato la scorsa settimana che stanno lavorando per far presentare Ita al tavolo e il ministro Franco in un'interrogazione parlamentare ha chiaramente detto, perché l'abbiamo sentito tutti con le nostre orecchie, che si diceva disposto insieme ai vertici di Ita a collaborare col ministro Orlando, ma di fatto è passata una settimana e ancora non abbiamo alcuna notizia. Ecco, andiamo invece all'aspetto pratico o ancora più pratico della vicenda. Debo Lacara, vent'anni in servizio presso Almaviva, oggi è da sei mesi a Covician, una mamma che ha a suo carico due figli, quindi monoreddito. Dico, qualora lei si… oggi in ferie forzate, così vengono definite. Assolutamente sì, ci hanno caricato degli istituti attualmente anche non maturati, quindi questa è un'altra situazione che dobbiamo gestire attraverso i sindacati. Ecco, cosa succederebbe qualora il licenziamento andasse, diciamo, si concretizzasse? Come potrebbe andare avanti? Queste domande bisogna farsele. Eh, una bella domanda. Nella realtà palermitana non è facile riuscire a trovare un'alternativa, quindi questo vorrebbe dire completamente travolgere la mia vita, quindi iniziare a inoltrare curriculum ovunque, parlo anche fuori regione, e iniziare a vivere una vita di restrizioni totali, perché comunque con un nostro stipendio part-time non è che possiamo permetterci una vita di lusso, ci godiamo una vita normale. Ma in quel caso, venendo a mancare anche uno stipendio part-time in una famiglia composta da tre persone, sarà veramente difficile far fronte alle esigenze quotidiane, perché avendo anche due figlie in età scolare, non è proprio semplice permettere loro di non far mancare nulla, quindi sarà veramente molto molto difficile. Mi auguro di poter continuare su Covisian, mi auguro di poter continuare su questa realtà palermitana, e voglio che lo Stato si renda garante così come lo è stato nel momento in cui è stato firmato l'accordo. Erano presenti dei ministeri e questi ministeri si sono resi... Dei ministri proprio? Sì, io parlo di ministeri, però nella qualità di questi ministeri c'erano dei ministri, questi ministri si sono fatti garanti della nostra situazione, hanno accettato questo accordo e che ben venga adesso la loro presenza. Non può essere tollerato questo silenzio assordante, non si può accettare. Ecco, voglio dire anche questo. Dico, in paesi come l'Albania, dove a volte, forse troppo spesso, sono stati delocalizzati dei call center, l'operatore di call center riesce ad avere, anzi è orgoglioso, lo sarete anche voi orgogliosi di lavorare nel call center, ma è orgoglioso anche economicamente di quel posto di lavoro. Voi nel corso degli anni avete avuto sempre ostacoli che vi hanno portato a fare dei sacrifici anche dal punto di vista di percorso professionale, quindi con riduzione di stipendi, più volte, riduzione di orari. Dico, e di contro avete offerto la vostra vita? Perché io voglio ricordare, visto che ho seguito la vicenda Alma Viva prima per qualche anno, che tante famiglie palermitane, cioè tanti marito e moglie, sono impiegati in Alma Viva. Quindi si andrà di fatto a sgretolare un intero nucleo familiare, cioè c'è il rischio di un tracollo totale, perché sicuramente c'è chi con due stipendi ha creato qualcosa. Allora diciamo che siamo 543 per modo di dire, perché ognuno di noi ha alle spalle dei figli e una famiglia, quindi è 543 da moltiplicare almeno per 3, quindi a Palermo una realtà del genere, credo che sia veramente difficile da affrontare, voglio augurarmi che non sarà così, non posso pensare il contrario, non voglio pensare il contrario. Ecco, i sindacati sicuramente non si sono tirati indietro. Assolutamente no, anche perché coinvolti in prima persona. Sono stati tanti i scioperi, le manifestazioni, i momenti di sensibilizzazione, ma dal suo punto di vista il palermitano, che è strano a questa vicenda Alma Viva, come si sente vicino? Avete percepito anche da parte della città una solidarietà con partecipazione? Oppure il vostro problema anche dai mass media non è stato dal suo punto di vista sufficientemente sottolineato? No, non è stato sufficientemente sottolineato. Io tengo a precisare tra l'altro una cosa, che è vero è che in questo momento l'avvertenza riguarda il call center ITA, ok, Covizian, ma sia chiaro, e io lo dico soprattutto a tutti quei palermitani che lavorano nei call center, perché dico siamo tantissimi, siamo un'enormità. Sì, perché a un certo punto Palermo è diventata una città costruita dai call center, circa vent'anni fa ne sono nati tantissimi. Tantissimi, facciamo un conto che diciamo al sud ci siano circa 15 mila addetti all'incirca, a Palermo ce ne sono tantissimi, solo noi in Alma Viva siamo nati, eravamo in 3 mila, per cui basta farci questi conti qua. La cosa che dovrebbe preoccupare tutti coloro che lavorano all'interno di un call center e di conseguenza dunque tutta la città di Palermo, ora vi spiego il perché, è che se lo Stato che dovrebbe essere garante di una clausola sociale rinnega se stesso e dunque esula la clausola sociale, questo darà il permesso a tutti i committenti privati di fare altrettanto senza che nessuno possa dirgli niente. Ciò significa che domani Enel, Telecom, Team, Wind, tutti quelli che ci sono, Sky, possono alzarsi dal letto e dire sapete che c'è, io da oggi mi affido ad altri operatori e senza portarmi dietro tutti quanti. Questo è un problema grossissimo perché ripeto, in questo momento il call center a Palermo in Sicilia dà da mangiare a tante famiglie, tantissime. Io ho sperato durante le nostre manifestazioni di vedere gli altri, di vedere un movimento di gente che fa parte dei call center, venirci a supportare. Purtroppo questa è una triste realtà, quando la cosa non ci riguarda direttamente diventa difficile. Una realtà che purtroppo riguarda tutti gli ambiti. Ma in realtà pensiamo che 500 persone che non vanno più a fare la spesa, 500 con le famiglie alle spalle, che non vanno a fare la spesa, che non vanno al cinema, che non fanno acquisti, vanno a incidere sull'economia di un territorio e diventa gravissimo, anche perché ripeto, se poi si elude la clausola sociale e gli altri cominciano a fare altrettanto, non saranno più 500, 1000, saranno 2000, 3000, 4000, 5000, saranno tantissimi, diventerà un problema ingestibile. Ecco, aspettiamo la data per una convocazione di un nuovo tavolo tecnico. Esatto. E quando sarà questo tavolo? Saperlo. Questo è il problema. Il problema è questo, che il tavolo è stato non chiuso, il tavolo è sospeso, noi ci aspettavamo una riconvocazione in tempi brevi, che di fatto però non è arrivata. Noi stiamo premendo a tutti i livelli, sia a livello nazionale, sia a livello locale, il sindaco, il grande assente c'è, perché c'è la regione che, lasciatemi passare il termine, è assente. Lei mi ha detto che voi più volte avete chiesto l'interlocuzione e l'intervento del presidente della regione siciliana, ma, almeno così mi ha detto, lui ancora personalmente non vi ha ricevuto. Lui personalmente non ci ha mai ricevuto, ci ha fatto parlare col capo di gabinetto, ci ha fatto parlare con l'assessore, ci ha fatto parlare con qualcuno del dipartimento, però di fatto lui non è mai intervenuto. Ora, è chiaro che il peso specifico di un presidente della regione sicilia, che non stiamo parlando di un paesino, stiamo parlando di una regione che fa milioni di abitanti e che comunque ha un suo peso, noi ci aspettiamo, ci aspettavamo e continuiamo ad aspettarci che venga a sedersi quel tavolo e a imporre il suo peso su quel tavolo. Orlando l'ha fatto non perché qua siamo sicuramente apolitici e apartitici, però Orlando più volte nel corso del tempo si è battuto per la vicenda Almaviva nel corso degli anni. Sì, continuo a farlo, continuo a starci vicino, ha addirittura, in fase proprio nel tavolo che abbiamo fatto, l'unico che abbiamo fatto giorno 20, lui ha minacciato di costituirsi parte civile contro Covivian, proprio perché lui è sempre stato al nostro fianco, sia lui che è l'assessore Marano, ripeto a me politicamente non interessa tutto quello che c'è, non siamo qua a fare politica. Ma siamo sicuramente a difendere dei lavoratori che rappresentano anche me, tutta la città. Assolutamente, tra l'altro tengo a precisare perché mi ha commosso quando è venuto l'onorevole Letta, il sindaco Orlando ha giustamente sottolineato una cosa, noi siamo persone per bene, siamo persone educate, abbiamo sempre scioperato e manifestato senza mai creare… E questo lo posso testimoniare anch'io, senza mai creare disagi… Non c'è stato mai appunto a Feruglio, si è rimasti sempre diciamo… Lo posso dire, mi posso permettere di dirlo che forse è un errore, perché continuando a fare i bravi ragazzi, ad oggi nessuno ci ha dato ascolto. Cominciamo a… diciamo che la paura si fa sentire, la paura aumenta, io mi auguro che qualcuno prenda coscienza di quella che è questa situazione, perché siamo persone adulte, padri e madri, ricordiamoci che siamo tutte persone oltre i 40 anni, tra l'altro, per cui anche pensare di ricollocarsi nel mondo del lavoro è veramente difficile, è una situazione che ci sta sfuggendo di mano, ma alla quale noi non ci vogliamo arrendere. Ecco, allora io penso questo, in un momento in cui la politica praticamente è molto presente, perché siamo in piena campagna elettorale, ci saranno altre campagne elettorali ancora più importanti, regionali, nazionali nel giro di un anno, dico, il miglior momento per attenzionare e per dimostrare davvero la vicinanza della politica ai cittadini, penso non possa esistere. E quindi il nostro tempo purtroppo è scaduto, però io faccio mio il vostro appello, che sicuramente la politica deve fare suo, cioè di convocare al più presto un nuovo tavolo tecnico, dove siano presenti tutti gli attori di questa vicenda che rischia di diventare un vero disastro sociale, se qualora si dovesse concretizzare l'ipotesi di un licenziamento di massa, nel giro di qualche mese poi tra l'altro. Sì, tra l'altro il nostro scaduto, noi praticamente il 22 giugno e i ragazzi che ancora sono in alma viva, che attendevano di transitare, parliamo di un mesetto dopo, un mese e mezzo dopo. E allora io vi ringrazio per essere intervenuti, tutta la redazione di Telewan sicuramente vi è vicina e vi continuerà a essere vicina attraverso i servizi, attraverso la nostra presenza, anche per sensibilizzare e per far capire qual è realmente il problema al quale si andrebbe incontro qualora venisse mollati. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a Luci sulla città giovedì prossimo. Luci sulla città è offerto da Impresa edile geometra Arnaldo Giambertone dal 1984. Qualità e cortesia al vostro servizio. Costruzioni e ristrutturazioni edili, manutenzione stabili condominali, rifacimento prospetti, bagni e cucine. L'impresa Giambertone vanta una notevole esperienza nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni edili, avvalendosi di personale altamente specializzato. Prezzi competitivi con preventivi e consulenze gratuite per l'ottenimento del super bonus 110%. Impresa edile geometra Arnaldo Giambertone. Ci trovi a Palermo in via Saline 5. Telefono 091 50 75 369. Impresa Giambertone. La scelta giusta per ristrutturare casa.